E' un microaccampamento di Bulgaria, ce l'ho aperto, da almeno quattro settimane, con tanto di disabili e bambini. Le forze dell'ordine passano ma non vedono. Cosa ce le abbiamo a fare? Tu hai provato a telefonare e a denunciare questa situazione, che cosa ti è stato detto? Io ho chiamato il comando della zona in via Settala una mattina di quattro settimane fa, mi hanno preso nota di questa situazione, ho fermato le varie pattuglie che ci sono in zona, uno addirittura mi ha risposto e vabbè ma se non creano problemi che fastidio le danno. Voglio dire, ma prevenire non è meglio che curare. Questo è un microaccampamento adesso, ma dopo cosa diventa? Sti bambini come crescono? Sono bimbi di 6-7 anni, presumo, poi non lo so. I disabili in carrozzina che cosa fanno? Chi sono le persone che abitano qui? C'è un disabile anche tra di loro? Almeno un paio di carrozzine le ho viste, queste persone non parlano l'italiano, non si può comunicare con loro. C'è sporcizia e degrado ovunque, abbandono? Sì, questo tratto di via è abbandonato a se stesso. Le grandi stazioni, inizialmente le grandi manovre di pulizia, perché come vedi un principio di ristrutturazione c'è. Nelle settimane scorse alla notte qui era bloccato perché facevano i lavori, non si poteva attraversare il sottopasso in macchina. Però ci sono ancora delle situazioni di degrado? Assolutamente. Quello che vediamo bianco è tutta acqua depositata, è calcare. Le saracenesche qui sono tutte marce. Quella è l'unica nuova perché hanno cambiato di recente, anche i seramenti sono nuovi. I graffiti, tutto quanto, qui è tutto così approssimativo. Qui c'erano degli esercizi commerciali una volta, saranno una decina di anni che non ci sono più. Lentamente gli hanno dato lo sfratto perché la stazione dice che non ha soldi. Però se non hai soldi ma mandi via i tuoi affittuari, ne hai ancora meno. Che freddo, che fa. Era una discoteca questa. Da quanto tempo è chiusa? Almeno dieci anni. Ed è rimasta così? Dieci anni e abbandonata? Dieci anni e abbandonata? Dieci anni e abbandonata? Qui piove dentro. Eh sì. Ed è così in una giornata di sole, immaginiamoci in una giornata di pioggia. Ma questa è l'acqua che in teoria... Questa è l'acqua che in teoria, perché poi in pratica i treni fanno schifo, dovrebbe essere per le pulizie dei treni, delle carrozze. Però non capiamo da dove arrivino tutta quest'acqua, tutto questo... Cioè, le plastiche stanno trattenendo parecchia acqua. Cioè, ho letto che finalmente ci sarà una riqualificazione del territorio delle ferrovie di Stato. Qui è vent'anni che dicono che dovranno fare un viale alberato, una cosa stile parigina, al posto di queste arcate che è un dentro dei vecchi magazzini, dei negozi, un viale alberato e curato, dei fiori, una cosa bucolica stupenda, ma vent'anni fa già si diceva questa cosa e non è successo assolutamente nulla. perché penso molto dove c'era anche...